Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi sono qui con Joy che fa un po' di capricci perché non vuole stare sola, però si spaventa di tutto oggi, vero? Allora spero che si addormenti un po' alla sua copertina. Comunque, oggi vi porto una tipologia di video che a me piace tantissimo, ovvero vi farò vedere i miei ultimi acquisti natalizi, do sopra, stanno facendo trasloghi, non lo so. Comunque, non sono tantissimi oggetti e probabilmente in futuro ne comprerò altri, però mi premeva fare questo video perché devo portarmi avanti, ripeto, quindi lo girerò lo stesso. Iniziamo subito al primo acquisto che vi faccio vedere, in realtà è un regalo da parte di mia nonna per il compleanno di Joy perché a novembre, il 19 novembre ha fatto un anno. Vero Joy? Questo è tuo. E siccome ho trovato la scritta Joy, è molto carina, poi questo è tutto letterato. C'è Joy scritto qua, vero? Ti piace? Quindi dicevo, qui c'è scritto Joy. E sì, è obiettivamente una cosa natalizia, però è super carina. L'hai fatta sotto il legno e non la ve la volevo mostrare, anche se non l'ho proprio comprata io, però è pur sempre una cosa natalizia. Andiamo avanti. La seconda cosa che vi mostro è con questo fianchetto verde perché sì, alla fine ho fatto l'albero di Natale verde. Non so se è già uscito il video in cui ve lo mostro. Comunque l'ho fatto verde appunto. E ho preso questa, ecco gli stessi glitter, ho preso anche una arena, mi sembra. Comunque è carina e l'ho pagata pochissimo. Tutta glitterata, io ho i miei glitter, quindi bellina. Ti piace? Che dici? Anche a te piace. Poi come terzo acquisto vi mostro una pallina di quelle con l'acqua. Soltanto che probabilmente vi farò un video dedicato a queste perché ne ho tipo 4-5 e di cui una fa anche la musichetta. E quindi vorrei fare un video a parte, vediamo, non ne sono ancora del tutto convinta. Comunque questa è bellissima, io sono fissata con gli miei di marzapane perché amo mangiarle effettivamente. E quindi ho preso questa famiglia, c'era anche la casa, però ho preferito la famiglia. Questa qui è carinissima. E qui ha tutti i cantiti, è proprio bellina. E l'ho pagata tipo 2 euro dai cinesi, invece la stessa identica, proprio precisa. L'ho vista in un supermercato, non mi ricordo quale, a 5 euro. Mentre dai cinesi quella grande costava 5 euro e invece in quel negozio costava 9 euro. Quindi andate a dare un'occhiata dai cinesi perché hanno queste cose bellissime a poco prezzo. Questa ti piace? non si esprime, cioè su questa. A pareri contrastanti. Adesso si susseguiranno una carrellata di cose prese da Tiger. La prima che vi mostrerò in un video apposito in cui appunto assaggerò i dolci di Natale è questa qui, questa scatolina qui con questi cuori. Sono dei biscotti appunto di Natale allo zenzero. Io solitamente li cucino io e forse uscirà il video, ne sono sicura. E però mi piacevano questi. Poi hanno anche il buco per appenderli, ma ovviamente con lei non è possibile. Poi si prenderebbero di volvere, insomma non mi piace. E sono dieci biscotti. E è troppo carina. E ripeto, queste gioie mi piacciono un sacco. Ovviamente non li può mangiare e noi li mancano a comprare. Però quando può si avvicina. Poi ho comprato questo quaderno bellissimo. Ve ne ho parlato nello scorso video. Appunto è quel bullet journal fatto solo di Natale. Infatti dura 25 giorni. E ve lo mostro in breve praticamente. Qui ci sono delle attività da fare nel periodo natalizio. E ancora non l'ho iniziato. L'ho iniziato domani. Qui dobbiamo scrivere di che moda siamo. Insomma poi c'è la sezione in cui scriviamo i film che ci piacciono di Natale. Le musica e tutto. Poi qui decoriamo l'albero. E c'è anche una pagina che vi volevo fare vedere. Vediamo se la trovo. Ok quindi praticamente scrivete quale regalo avete fatto. A chi quanto costa e dove l'avete preso. Secondo me è carino per tenere a mente i regali che già abbiamo fatto. E insomma c'è un po' di tutto. Qui vi insegno a fare i disegni di Natale. E quindi niente ok. Intanto Joy si è addormentata. Vi mostro gli ultimi due pezzi. Uno in realtà l'ho comprato l'anno scorso. però volevo mostrarvelo stesso. Iniziamo da quello. È questa borsa in tessuto. Sempre di Tiger. Con tutte queste decorazioni natalizie. E robosa, rosse e dorate. E qui abbiamo l'albero. Qui abbiamo... si chiama il pastoggio di zucchero. E diverse forme natalizie. E questa è molto comoda. Io ne ho un sacco di Tiger. Ma perché mi trovo bene. Le uso per andare al lavoro. Per andare alla scuola guida. Le uso sempre. Quindi mi trovo super bene. Anche Joy ne ha una tutta sua. E poi quella che invece ho comprato quest'anno. Supera tutto. Veramente stupenda. Ce ne erano tantissime tipologie. Ma io ho scelto questa. Ovvero Babbo Natale che passa l'aspiravolvere. Ditemi se non è la borsa più carina che vi abbiate mai visto. È troppo troppo bella. E questa è molto più sottile e morbida rispetto a questa. Questa è proprio pesante. Non so perché abbiano fatto questa differenza. Questa ancora non l'ho usata. Ma penso che per andare al lavoro nel periodo natalizio la userò. Perché per ora uso quella con gli orsetti. Che è una delle mie preferite. E prima ancora usavo quella del mostro che bevi il caffè. O del caffè col mostro. Non mi ricordo bene. E poi usavo anche... Quale che usavo? Non mi ricordo. Va bene. Ne ho veramente tantissime. Quindi me le scordo. Comunque questo è stato un video abbastanza breve. Non ho acceso la luce dietro di me perché oggi non piace. Inizia da bagliare. Si spaventa. Quindi niente. E spero vi abbia fatto piacere questo breve video. Sicuramente comprerò altre cose. Ma appunto mi premeva fare il video adesso. Se volete dite. Vero che viene a dire un altro. Ma non penso. E nulla. Spero di avervi rilassato. A gioi sicuramente perché si è addormentata. E vi ricordo che per sostenermi potete mettere mi piace, iscrivervi al canale e commentare. Magari con il vostro oggetto preferito. E noi ci vediamo domani con un altro video di Natale. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.